Ferrari Ragazzi allora oggi abbiamo l'esperienza ninja Ci hanno dato i vestiti tradizionali per diventare ninja E vedete cosa ci fanno fare Sarà una giornata abbastanza divertente Siamo a Iga Station E stiamo per prendere il ninja Il treno dei ninja Ovviamente vestiti come dei ninja Anche le vending machine hanno il carattere dei samurai Comunque siamo a Iga Kanbei Ricordatevi il nome se volete fare questa esperienza C'è anche un ninja qua Finto ovviamente Eccolo è arrivato il nostro treno ninja Entriamo entriamo siamo tutti ninja Siamo arrivati al villaggio dei ninja Guardate anche è tutto fatto in legno Fantastico Ci sono ninja ovunque La mascotte ci sta aspettando La stazione dei ninja Ninja city Ciao mascotte ciao Guardate ragazzi questo è un tobillo che è stato inaugurato oggi del pokemon Chi è che non riconosce questo? Buonque ragazzi c'è scritto anche in italiano Un po' strano Benvenuti alla città di Iga Città cool dei ninja In prefettura di Mie Siamo entrati nel villaggio dei ninja Vediamo cosa ci aspetta questa esperienza Entriamo nella casa dei ninja Vedete hanno tutte queste cose Per scappare meglio Ah sì 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 Uè 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 si è cambiato ecco ora 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 guarda spettacolo tassi cosa per Quattro. Ci ранaggio di calcio di calcio di calcio. Riesce fiat alle due di calcio. Quattro dosi sono frederiamo per andare a quando? Per esempio, come per tocco. con la mano a destra, però chi è a sinistra, ninja con la mano a sinistra si può andare giù, tutti i nespondigli dei ninja c'è anche la via per, guardate, è pieno di sorprese incredibile, la casa dei ninja è fantastica e loro dovevano sempre scappare, no? e loro dovevano sempre scappare, no? ah, che puoi vedere, vedete? guardate, questa è una fessura questa è qui, con la mano a me con me vediamo dove nascondevano i soldi dei ninja guardate! questo è quello che bello è e gli anni fanno l'armi vedete che vieni vedete 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 c'è con la tavola ora ragazzi è il momento divertente perché possiamo tirare i shuriken vediamo se ce la faccio ragazzi proviamo vediamo come se proviamo siccome ho fatto 50 fatto centro mi hanno dato il certificato di ninja entriamo a vedere lo shuriken vediamo mi metto proprio qua davanti per farvi vedere meglio proviamo a fare un po' di faccio No Need only be made by the blacksmiths Lost my trees Theorangyamiamiamiamiamiamiamiamiami indicating warmly Follow me. Bell Iscriviti al nostro canale? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.